c'è un paese dove ogni posto è una scoperta dove le strade ti portano sempre dentro qualcosa dentro i colori dentro i sapori dentro i profumi dentro la fatica di ognuno dentro il gusto di aver fatto ancora una volta qualcosa di buono dove conoscenza e passione sono ingredienti fondamentali dove si è unici perché vari in quel paese c'è una storia antica che ha attraversato i secoli per parlarci di modernità e innovazione l'olio extravergine d'oliva è il filo conduttore di questa storia è patrimonio dell'italia e degli italiani frutto prezioso e salutare di un settore nel quale siamo maestri da sempre